L'exporto toscano arriva ai livelli pre-pandemia, ma il distretto tessile pratese ancora no. L'exporto toscano arriva ai livelli pre-pandemia, ma il distretto tessile pratese ancora no. L'exporto toscano arriva ai livelli pre-pandemia, ma non è avvenuta la stessa cosa per il tessile di Prato. Pur migliorando nettamente rispetto al 2020, il valore complessivo paga ancora un 5% in meno rispetto al 2019. Nel 2021 le esportazioni distrettuali toscane, grazie ad un rimbalzo del più 29%, hanno toccato 21 miliardi e 200 milioni di euro ed hanno più che recuperato i livelli pre-covid, superando di oltre 700 milioni il valore del 2019. Come emerge dal monitor dei distretti della Toscana, elaborato dalla Direzione Studi e Ricerca Intesa San Paolo, il recupero rispetto al livello pre-crisi è diffuso e anche il sistema moda è riuscito a riportarsi sui livelli del 2019, mostrando andamenti eterogenei tra le specializzazioni distrettuali. Crescita è importante rispetto a livello pre-crisi per l'oreficeria di Arezzo, il recupero per la pelletteria e calzature di Firenze e l'abbigliamento di Empoli, mentre altre specializzazioni che si collocano più a monte della filiera come il tessile e l'abbigliamento di Prato mostrano ancora un ritardo e non hanno recuperato il divario con il pre-crisi, facendo segnare quasi il 5% in meno rispetto al 2019. Nel dettaglio il distretto tessile pratese nel 2021 ha effettuato esportazioni per oltre 2 miliardi di euro di valore, quasi il 17% in più rispetto al 2020, ma come detto con un gap percentuale dei 5 punti rispetto al periodo pre-pandemico. Anche il comparto della meccanica si è riportato pienamente sopra i livelli del 2019, il distretto delle macchine per l'industria tessile di Prato fa segnare un più 11,5%. Gli impatti delle tensioni in corso sono molteplici anche sul commercio internazionale, in termini di esportazioni la Russia e l'Ucraina rappresentano l'1% dell'export distrettuale toscano e circa il 3% dell'export per le macchine per l'industria tessile di Prato. Sono 1640 i nuovi casi di Covid registrati oggi in Toscana, di cui 76 in provincia di Prato. Rispetto a ieri il numero dei casi è inferiore a fronte di meno della metà dei test eseguiti. Di conseguenza il tasso di positività è sostanzialmente stabile, era del 14,8%. Il bollettino di Arno riporta 22 nuovi decessi a livello regionale, 1 a Prato. Ancora in aumento il numero dei pazienti ricoverati nelle aree Covid degli ospedali toscani, 934, 43 in più rispetto a ieri, 43 in terapia intensiva, 7 in più. E adesso parliamo di un tentato furto in abitazione che ha anche una storia di infanzia derubata. Una ragazza di 19 anni ha provato a rubare assieme alla sorellina del fidanzato una bambina di 11 anni. I carabinieri hanno arrestato in flagranza la 19enne, l'hanno portata in ospedale per gli accertamenti sanitari. La giovane è infatti al quinto mese di gravidanza. I carabinieri di Prato hanno arrestato una giovane di 19 anni colta in flagranza durante un tentativo di furto all'interno di un'abitazione nelle vicinanze di Via Siena, al soccorso. Il fatto è avvenuto sabato mattina attorno alle 11.30. Assieme alla 19enne, di nazionalità serba e proveniente da un campo nomade di Milano, c'era una bambina di 11 anni, la sorellina del fidanzato, che data la giovane età, inferiore ai 14 anni, non è imputabile. A dare l'allarme sono stati i proprietari dell'appartamento, che si trovavano in casa durante il tentativo di furto e sono stati attirati dai rumori provocati dalle giovani ladre, sorprese nell'azione furtiva. I carabinieri, intervenuti sul posto, hanno accompagnato in caserma le due giovani. La 19enne è stata trovata in possesso di molteplici oggetti da scasso, tra cui anche una lastra in plastica utilizzata per forzare le serrature. Una vicenda triste, ancora più desolante, se si pensa che la 19enne, già con qualche precedente per reati contro il patrimonio, è incinta al quinto mese di gravidanza. I militari hanno portato la ragazza in ospedale per gli accertamenti sanitari del caso. La 19enne dovrà rispondere di tentato furto, aggravato dal fatto di aver indotto a delinquere una bambina. L'undicenne, in accordo con l'autorità giudiziaria, è stata affidata provvisoriamente ad un istituto di accoglienza per minori. È stato fermato dai carabinieri mentre si trovava a bordo della sua auto e l'odore di hashish che ne scaturiva ha insospettito i militari che, dopo aver controllato la vettura, hanno deciso di fare una verifica anche all'interno dell'abitazione del fermato. Nella casa, i carabinieri hanno scoperto 26 pezzi di hashish appositamente suddiviso, denaro contante e materiale per il confezionamento. L'uomo, un 21enne pratese, nonostante la giovane età, era già aggravato da precedenti, tanto che era già stato arrestato dai carabinieri per lo stesso reato. E voltiamo pagina. Debutta a Prato alle Manifatture Digitali Cinema, il primo laboratorio nazionale per la produzione di serie televisive. Si chiama Showrunner Lab e al taglio del nastro era presente anche l'attrice americana Condola Rashad dell'acclamata serie Billions. Taglio del nastro a Manifatture Digitali Cinema della prima edizione di Showrunner Lab, il primo laboratorio italiano per entrare nel mondo della produzione delle serie TV. A proporlo è Toscana Film Commission, in collaborazione con Good Girls Planet, ITTV Forum e Festival di Los Angeles, e PIN, con il contributo del Bando Ministeriale e Progetti Speciali per il Cinema e l'Audiovisivo. Lo showrunner è sceneggiatore e produttore, è colui che trasforma una serie, soprattutto di lunga durata, in un prodotto di successo. I ragazzi impareranno non solo a creare e a scrivere, ma a essere anche manager dell'audiovisivo, quindi a sapere qual è tutto il percorso della filiera, dall'inizio alla fine. Diciamo che lo showrunner lab è il deus ex machina delle serie TV ed è una figura che anche le produzioni internazionali che vengono a girare qui nel nostro paese e soprattutto anche in Toscana, e quindi abbiamo deciso di incominciare a formare ragazzi per creare anche nuovi posti di lavoro. Sono stati selezionati 18 studenti under 30 per seguire lo showrunner lab provenienti da tutta Italia. Il laboratorio è tenuto dalle docenti Cristina Borsatti, scrittrice e sceneggiatrice, Francesca Scanu, sceneggiatrice e produttrice, prevederà diversi seminari con ospiti nazionali e internazionali, Marco Chimenez, produttore e AD di Catleia, Gian Andrea Pecorelli, CEO di Aurora Film, Von Wilmot, produttore della serie TV Fantasy Dominion, ma anche di Star Trek e Prison Break, solo per fare alcuni nomi. Al taglio del nastro era presente l'attrice americana Condola Rashad tra i protagonisti dell'acclamata serie TV Billions. L'obiettivo in questo caso qual è? Quello di formare dei professionisti che siano in grado di seguire la produzione e la post-produzione dell'evento, dell'audiovisivo in questo caso, legato ad una serie TV, dall'A alla Z, partecipando ad ogni fase di scrittura, di sceneggiatura, appunto di produzione, di post-produzione, avendo la capacità di entrare dentro questo contenitore che è la serialità TV, con modalità altamente, diciamo, di qualità, e soprattutto legata a un percorso di conoscenza, competenza e qualità delle prestazioni che sia seguito dai formatori e anche poi dai realizzatori stessi alla Z. Passiamo adesso allo sport, al calcio, il Prato batte 3 a 0 la Trizium e conquista la prima vittoria a Casalinga da quando è tornato a disputare le gare Casalinghe allo stadio Lungo Bisenzio. Vediamo. La domenica perfetta per il Prato. Prima vittoria stagionale a Lungo Bisenzio, la quarta affermazione nelle ultime cinque partite per la squadra bianco-azzurra che ha superato la Trizium per 3 a 0. Una vittoria che consente ai lanieri di portarsi a quota 41 in classifica ad un passo dalla matematica a certezza della permanenza in categoria. Partita difficile perché premetto che questa squadra ha una classifica sbagliata per la qualità della squadra che ha e hanno fatto vedere che dal punto di vista tecnico è una squadra sicuramente superiore alla classifica che ha. Non è stato facile, finché non l'abbiamo sbloccata abbiamo sofferto, però con grande impegno, con grande umiltà, ci siamo messi lì e una volta aperte le marcature abbiamo giocato diciamo al meglio e i tre gol sono tre gol belli e finalmente a Lungo Bisenzio abbiamo fatto questa vittoria che non era ancora venuta ed è una vittoria che conta perché insomma a 41 punti non siamo tranquillissimi, però insomma quasi. La partita è stata equilibrata, la Trizium ha tenuto bene il campo mostrando ottimi fraseggi, il vantaggio laniero sul finale di prima frazione con Nicoli che dal limite dell'aria ha fulminato il portiere avversario 1-0 per il Prato. Nella ripresa la Trizium approccia bene la gara, Verde è un pericolo costante mentre D'Agostino tiene in allerta l'attento portiere del Prato, Pagnini. Il Prato chiude i conti grazie alla rete del talentuoso Boganini che fa bingo in un'azione di rimessa. La festa laniera si conclude con la terza rete realizzata da Gissi che spinge in fondo al sacco un assist con il contagiri di un incontenibile Boganini. È 3-0 per il Prato che festeggia con i suoi splendidi tifosi. Il lungo Bisenzio, insomma, non è più un tabù. Passiamo adesso alle previsioni del tempo come sempre a cura del Consorzio Lamma. Una buona giornata a tutti, un saluto dalla sala meteo del Consorzio Lamma. Andiamo a vedere le ultime immagini dal satellite, immagini che ci mostrano nuvolosità di tipo medio-alta che scorre da ovest verso est lungo il Mediterraneo occidentale che va a interessare l'Italia centro-meridionale e in parte anche la nostra regione. La previsione per il pomeriggio di oggi vede un cielo fra poco nuvoloso e parzialmente nuvoloso con schiarite più ampie lungo il litorale. C'è la possibilità nelle ore centrali della giornata di qualche isolato e breve rovescio soprattutto sui rilievi meridionali tra le colline motallifere, il Monte Amiata ma anche sull'Appendino settentrionale. La quota neve sarà intorno ai 1.200 metri. Sul resto della regione precipitazioni meno probabili comunque dovessero verificarsi saranno dei brevi rovesci. Le temperature sono previste in lieve aumento le massime fino ai 13-15 gradi. Uno sguardo alla giornata di domani tempo in miglioramento il cielo sarà in prevalenza sereno su tutta la regione pressione in aumento e tempo stabile temperature minime in lieve calo intorno ai 2-3-4-5 gradi su lungo la costa quindi possibili valori più bassi sulle zone interne sul fondo valle dell'interno va invece un po' meglio sulla costa dove appunto le temperature saranno più alte le massime fino ai 15-17 gradi quindi in lieve aumento uno sguardo anche alla giornata di mercoledì temporaneo peggioramento una perturbazione mediterranea arriva dal nord Africa va a interessare in particolare le zone centro-meridionali della regione anche se poi fra il tardi o pomeriggio e la sera delle piogge potranno interessare anche le zone più settentrionali piogge generalmente deboli un pochino più intense probabilmente sulle zone centrali e meridionali della regione le temperature stazionarie le minime in aumento lieve le massime qui c'è da fare un distinguo aumenteranno le massime sulle zone settentrionali dove la nuvolosità arriverà più tardi mentre invece sulle zone meridionali le massime saranno addirittura in calo proprio a causa delle piogge e della copertura nuvolosa è tutto per il momento grazie per l'attenzione e una buona giornata e con il meteo è tutto vi ricordiamo alle 17.30 in diretta dalla Chiesa di Santa Maria dell'Umiltà a Chiesa Nuova la recità del rosario a seguire la celebrazione della Santa Messa l'informazione di TV Prato torna questa sera alle 20.30 grazie per averci seguito e arrivederci a presto